L'ha fatto solo per attirare l'attenzione. Non lo so, Merchan. Come hai visto, le ferite erano profonde. Sì, ma qui parliamo di una dottoressa. Se avesse voluto togliersi la vita, avrebbe reciso l'arteria. Un taglio sarebbe stato sufficiente. Se sua zia non fosse intervenuta, l'avremmo persa. Le abbiamo fatto due trasfusioni. Con calma. Perché mi avete salvato, zia? Perché? Perché? How it feels How it feels Until it happens to you You won't know It won't be real I won't let you know No, it won't be real I won't let you know You won't know how I feel